Ciao Sara, cosa stai preparando? Allora, sto preparando un semifreddo alla roviola e miele. Comincio con un cake alla camomilla. Poi un semifreddo sifonato alla roviola e miele. E sopra c'è dell'olio alla camomilla congelato. Poi della gelatina montata alla camomilla. E nel vasetto abbiamo del polline. E completiamo con una fiore. Questo piatto è stato preparato da Sara Zanotto, i due buoi e Alessandria. Grazie.